Il prefetto di Verona, Donato Caffagna, ha adottato due nuove interdittive antimafia nei confronti di altre tante società veronesi, i cui rappresentanti legali sono risultati direttamente o indirettamente coinvolti nelle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia. Indagini che hanno portato nei mesi scorsi alla individuazione nella provincia scaligera di associazioni a delinquere di stampo andranghettistico, attive anche in ambito imprenditoriale. I settori sono quelli delle costruzioni edilizie e degli impianti fotovoltaici e tecnologici.